E' sabato sera e sono da sola. Leo non c'è e i miei amici o stanno male o non vivono più a Milano. Visto che ho già guardato due stagioni di una serie tv in una sera, forse è meglio fare qualcos'altro. Ho deciso che faremo insieme il test delle 16 personalità. Vediamo un po' che succede. Premesse. Devi essere te stessa e rispondere con sincerità. Assolutamente. Iniziamo. Che ansia. Fai regolarmente nuove amicizie? Non lo so. Questa scala non so dove mi posizionerei. Credo qui. Perché non è una mia priorità. Se voglio posso fare amicizia molto velocemente con veramente quasi chiunque. Però di mio non sono una persona che tende a dover per forza conoscere nuove persone. Trascorri molto del tuo tempo libero esplorando vari argomenti casuali che suscitano il tuo interesse. Approvo al 100%. Sono veramente la regina del perdermi a vedere qualunque cosa. Vedere altre persone piangere può facilmente far venire voglia di piangere anche a te. 100% sì. Io sono davvero molto sensibile. Spesso organizzi un piano di riserva per il tuo piano di riserva. Allora soffrendo d'ansia ovviamente 100% approvo. Di solito rimani calmo anche se sottoposto a forti pressioni. Sorprendentemente sì. Poi magari ho il contraccolpo psicologico un po' di tempo dopo. Ma nelle situazioni stressanti io riesco quasi sempre a mantenere un ottimo controllo. Sì. Durante gli eventi sociali raramente cerchi di presentarti a nuove persone e parli per lo più con quelle che conosci già. Sì. Mi piace stare nella mia comfort zone. Quando già conosco qualcuno appunto non sentendo l'esigenza di conoscere per forza persone nuove. È molto probabile che io rimanga con le persone che già conosco. Preferisci terminare completamente un progetto prima di iniziarne un altro? Assolutamente sì. Quando mi è possibile evito di lavorare a più cose contemporaneamente. Non mi piace per niente. Sei molto sentimentale? Sì. Ti piace utilizzare strumenti di organizzazione come programmi ed elenchi? Tantissimo. Mi aiuta veramente molto a calmare la mia ansia perenne di non riuscire a compiere quello che devo fare. Quindi sì. Approvo. Approvo. No? Sì. Anche un piccolo errore ti può far dubitare delle tue capacità e conoscenze? Sì. Sono molto critica con me stessa e... Purtroppo sì. Ora un po' meno di prima ma è ancora giusto molto da lavorarci. Ti senti a tuo agio quando ti avvicini a qualcuno che trovi interessante e inizi una conversazione? Abbastanza. Anche qui sono molto migliorata col tempo. Prima ero veramente molto introversa. Adesso ecco ho sicuramente molta fiducia in me stessa. Quindi se non lo sono comunque riesco a mimarlo molto bene. Facciamo così dai. Non sei troppo interessato a discutere le varie interpretazioni e analisi delle opere creative. Disapprovo al massimo. Una delle cose che amo di più è proprio cercare nuove interpretazioni a opere che siano letterarie, cinematografiche, artistiche. Sei più incline a seguire la testa che il cuore. Qui mi posizionerei a metà nel senso che sono una persona più emotiva che razionale. Su determinate parti della mia vita invece tendo a prediligere la testa piuttosto che il cuore. Di solito preferisci fare quello che ti senti di fare in un determinato momento invece di pianificare una particolare routine quotidiana. Diciamo che è un approvo poco. Sono più dall'approva che dal disapprova. Però ho bisogno di entrambe le cose. Ecco non voglio dei piani troppo serrati per cui non posso non fare determinate cose. Ho bisogno di uno schema flessibile io per stare bene mentalmente. Però ho bisogno anche al contempo di alcune linee guida. Ovviamente ti preoccupo di fare una buona impressione sulle persone che incontri. Disapprovo al 100%. Ti piace partecipare ad attività di gruppo? Neutra. Neutra perché da una parte mi piace lavorare con altre persone, stare in gruppo, mi diverte. Dall'altra sono una persona che vuole avere il controllo su queste attività. Cerco di posizionarmi sempre come leader. e quando questo non mi è possibile o quando il lavoro non viene fatto come dovrebbe essere fatto perdo un po' la pazienza e anche se non lo do a vedere in realtà dentro io mi sto innervosendo tantissimo. Ti piacciono i libri e i film che ti spingono a dare una tua interpretazione del finale? Le opere con finale aperto sono quasi sempre tra le mie preferite. La tua felicità deriva più dall'aiutare gli altri a realizzare le cose che dai tuoi stessi risultati. La mia felicità credo dipenda in egual modo da entrambe le cose. Mi piace tantissimo vedere qualcuno che amo realizzare i propri sogni, i propri risultati e magari anche aver fatto qualcosa per far sì che questo accadesse ma ci tengo allo stesso modo anche per me. Quindi mettiamoci a metà. Sei interessato a così tante cose che ti è difficile scegliere cosa provare? No. Sei incline a preoccuparti che le cose prendano una brutta piega? Ovviamente sì. Eviti di assumere ruoli di leadership in contesti di gruppo? Come ho detto prima, disapprovo al massimo. Non sei sicuramente una persona artistica. Disapprovo al massimo. Pensi che il mondo sarebbe un posto migliore se le persone si affidassero di più la razionalità e meno i sentimenti? No, non lo penso. Preferisci sbrigare le tue faccende prima di concederti un po' di relax? No, preferisco il contrario in realtà. Ti piace guardare le persone che litigano? No, lo detesto. Mi mette veramente delle brutte energie e vibrazioni. Tendi a non attirare l'attenzione su di te. Disapprovo. Il tuo umore può cambiare molto rapidamente? Sì. Perdi la pazienza con chi non è efficiente come te? Sì. Spesso finisci per fare le cose all'ultimo momento possibile? Sì. Sei sempre stato affascinato dalla domanda su cosa succede e se succede qualcosa dopo la morte? Sì, però ne ho anche un po' paura, quindi ne sono affascinata moltissimo. Dall'altra nutro sempre un po' di riservo, quindi mi metterei qui. Di solito preferisci stare in mezzo agli altri piuttosto che da solo? Neutra in questo caso perché ho bisogno di entrambe le cose. Che annoi o perdi interesse quando la discussione diventa molto teorica? Un pochino. È facile entrare in empatia con una persona, le cui esperienze sono diverse dalle tu. Mi è molto facile entrare in empatia con chiunque. Di solito rimandi la decisione finale il più a lungo possibile. Sì. Raramente ripensi le scelte fatte? Qualche volta ci ripenso ma non amo rimuginarci sopra perché... Credo che, ecco, le scelte siano sempre da contestualizzare in un momento della propria vita, in un stato anche psicofisico della propria vita, quindi non mi piace ripensare a cosa avrei dovuto fare se... Dopo una settimana lunga e faticosa, un evento sociale vivace è proprio quello che ti ci vuole. Neutro, non lo so, dipende in realtà. Ah, ma perché mi brude il naso? Ti piace andare nei musei d'arte? Sì, mi piace. Spesso hai difficoltà a capire i sentimenti degli altri? No, disapprovo. Ti piace avere una lista di cose a fare ogni giorno? Ma non me l'avevi già chiesto. Comunque sì. Raramente ti senti insicuro? Eviti di fare telefonate? No. Neutro, cioè, se devo farle le faccio. Non è la mia cosa preferita, ma non è anche paura. Spesso passi molto tempo a cercare di capire punti di vista molto diversi dal tuo? Neutro, non è che spesso proprio ci passi del tempo, però mi capita e cerco un po' di mettermi nei panni di una persona che la pensa diversamente da me, su alcune cose. Su altre ovviamente no. Cioè, dipende dall'argomento, alcune cose sono fattuali e non si può avere un'opinione diversa in merito. Nella tua cerchia sociale sei spesso tu a contattare gli amici e avviare le attività? No. Purtroppo è una cosa di me che non è il massimo, ma no, sto cercando di cambiare questa cosa. Se i tuoi piani vengono interrotti, la priorità assoluta è tornare in pista il prima possibile. Sì. Sei ancora infastidito da errori commessi molto tempo fa? No, assolutamente. Raramente contempli le ragioni dell'esistenza umana o il significato della vita? No. Le tue emozioni ti controllano più di quanto controlli loro. Purtroppo un pochino a volte succede. Ti preoccupi di non mettere in cattiva luce le persone anche quando è completamente colpa loro. Il tuo stile di lavoro personale è più vicino a esplosioni spontanee di energia che ha sforzo organizzati costanti. Prima era sicuramente una prova al massimo, ora è un no. Perché sto cercando di, anzi un piccolo sì, un piccolo approvo poco. Quando qualcuno ha un'alta considerazione di te, ti chiedi quanto tempo impiegherà a sentirsi deluso da te? No. No, no. Ti piacerebbe avere un lavoro che richiede di lavorare da soli per la maggior parte del tempo? Sì. Credi che riflettere su questioni filosofiche astratte sia una perdita di tempo? Assolutamente no. Sto anche studiando filosofia adesso in magistrale. Ti senti più attratto da luoghi con atmosfere movimentate e affollate che da luoghi tranquilli e intimi? No. Capisci prima vista come si sente una persona? Assolutamente. Sì. Ti senti spesso sopraffatto? A volte, mi capita. Completi le cose con metodo, senza saltare alcun passaggio? Sì. Sei molto incuriosito dalle cose etichettate come controverse? Sì. Scarteressi una buona opportunità se pensassi che qualcun altro ne ha più bisogno? Probabilmente no. Hai difficoltà a rispettare le scadenze? No. Ti senti sicuro che le cose andranno bene per te? Lo spero e cercherò di fare il mio meglio per far sì che accada. Ok, ok. Il tuo tipo di personalità è MFJT. Protagonista. Sono molto felice di questa mia personalità. Sono felice di aver fatto questo quiz con voi. Se lo farete scrivetemi qui sotto che personalità siete oppure che personalità credevate che fossi. Ci vediamo al prossimo video. Mua!